Ciao a tutti, ecco un'altra domanda che mi fate spessissimo. Perché il mio cane rincorre le auto e le moto? Questa domanda mi viene rivolta soprattutto dai proprietari dei pastori conduttori del gregge e in primis dei proprietari dei border collie. Le motivazioni possono essere diverse, per esempio potrebbe averne paura. Questo perché non ha fatto magari abbastanza esperienze o una corretta socializzazione nel periodo sensibile. O ancora potrebbe rincorrerle per soddisfare la sua motivazione predatoria, che nei pastori del gregge conduttori è piuttosto elevata. Questo comportamento può essere anche determinato da frustrazione, per esempio perché le motivazioni tipiche della razza non vengono sufficientemente espresse e quindi sono frustrate e quindi il cane trova delle valvole di sfogo come questa. Inoltre quando il cane è sotto stress o a disagio, spesso esprime le motivazioni che sono più tipiche della sua razza e in questo caso la predatoria è una di queste. Come possiamo quindi ridurre questo comportamento? Bisogna intervenire prima di tutto a seconda della causa, come abbiamo visto. Dobbiamo quindi soddisfare le sue motivazioni, lavorare sulle paure e sulla socializzazione. Bisogna rendere il cane più sicuro di sé, facendogli fare esperienze guidate. Dobbiamo lavorare sulla calma e sviluppare la riflessività del cane. Nel caso avessimo due cani insieme che mettono questo comportamento, dobbiamo ogni tanto cercare di portarli fuori separatamente, anche perché spesso uno trascina l'altro ed è molto difficile intervenire, mentre lavorando con uno alla volta tutto è molto più semplice. Ovviamente per lavorare al meglio su questi aspetti è importante mettersi nelle mani di un bravo educatore. Buon lavoro, alla prossima, ciao!